Tessa mi dispiace tanto Martin, non parlarmi più, tra noi è finita Non volevo baciare quella ragazza al bar, ero ubriaco Sei sempre il solito, non cambierò idea Peccato, avevo comprato una torta al cioccolato per stasera Al cioccolato? Perché non mi eri detto prima? Allora mi perdoni Ci devo pensare Ti amo Ti aspetto stasera Sono ora disponibili le magliette e gli accessori di After Trovate il link di acquisto in descrizione